I libri hanno desideri, hanno aspettative, stanno i adulti d'anchele, considerando che appunto persone. Basta solo una piccola cosa da fare, che a volte si perde un po' nella vita di tutti i giorni, dare fiducia. Dare fiducia a chi ci sta accanto, non ha importanza chi è, però dare fiducia. Vorrei fare dei ringraziamenti e in primis lo vorrei fare agli sponsor della serata, perché in un momento di crisi come adesso trovare degli sponsor non è facile e le persone che hanno vendito hanno sposato anche loro la solidarietà. Per cui ringraziamo la picchina, la pulicela di Negra, le distillerie a Mazzadro e dopo nei saloni potete fare degli assaggi, la Banca Popolare di Verona, AMIA, Cosmos SR Italia, Leonardo di Fruta, il Power Emergency SOS Vallejo di Villa Franca, D'Ambarus e Bartone e il fotografo che vedete girare per la sala, Leonardo Marco Piero Panna. Ringrazio. Grazie.